ok credo che sono in live dunque siamo in diretta un pochettino così va bene aspetta che no aspetta che un pochettino perfetto penso adesso mi vedete no sperazzo un pochettino mettiamo 12 dai va più che bene allora buon pomeriggio a tutti voi ragazzi e benvenuti ovviamente qui in live e oggi siamo qui benvenuti qui su twitch e oggi siamo qui e oggi siamo qui su rocket league e continuiamo questa stagione 6 la sesta stagione di rocket league il quarto episodio e oggi giochiamo un po con e oggi vi porta questa bella vettura giochiamo insieme con questa bellissima macchina da corsa un f1 diciamo misto di f1 questa vi dico che questa si trova sul pc è un'auto che fa parte per chi gioca da dal pc che si chiama adesso ve lo faccio vedere animus si chiama animus gp questa vi la porterò in un prossimo video di rocket league intanto c'è già qua con me stream elements e arduino ciao arduino ciao a tutti i ragazzi aspettate allora mi sa che devo mettere un nuovo comando di stream elements per per intanto devo ringraziare dunque michele r 96 per il follow destig 91 e matt e matteo matt matt mmt l 27 e come faccio arduino aspetta che devo salvare intanto la diretta allora categoria mettiamo rocket league mi dimentico sempre ragazzi ok telegram il mio è questo fatto fatto ok vado un attimo a salutare i miei genitori e arrivo che ho che ho ma ho a Grazie a tutti. Oh, eccomi qua, ciao a tutti. Wewe, salve l'Ox. Grande, grande, salve l'Ox. Allora, intanto ho raggiunto ben 119 followers, qui. 505 visualizzazioni. Sì, mamma mia, oh, sono tanti. E ben 498 iscritti su YouTube. E già su YouTube ho fatto un passo veramente avanti. Speriamo che mi vieni a trovare il Tudo, gli altri. Allora. Che devo fare? Vai su Tudo e andare su Stream Elements. Ok. Eh, se mi mandi il link, guarda, lo faccio. Allora. Ah, io vi favo con questa una bella pattitina. giusto per riscaldarmi un po'. Allora. Devo connettere con Twitch. Oh. Allora. Oh. Aspetta E' E E E E E E E Aspetta che sto giocando Dove rimanere più concentrato che mai Aspetta fai prima il login Se mi ricorda passo Eccolo Aspetta 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspetta, dai. Oh, bello, bello questo passaggio. Dai, dai, devo farcela. Dai, che questa è una bella traiettoria. Vediamo, vediamo. Oh. Non è entrata. Oh, adesso, bravo. Allora, 06. 0, 6, 9. No. Ok. Ok. 3, 2, 1, 2. Ok. 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 Aspettate Io sto giocando O gioco o sistemo una cosa Due cose non posso fare Allora Ecco Io mi ritiro Sistemo questa cosa Allora Datemi il tempo raga di sistemare una cosa Si sistema Si parte Ah è entrato Allora dove devo andare Arduino Allora 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 dove devo andare Impostazioni Poi Dice Invita Dove devo andare su Aspetta non sto capendo niente Arduino Allora Poi clicca sul canale Suo canale Aspetta dashboard Bot I miei gestori Dove stanno i miei gestori Eh ci sono sulla dashboard Che devo fare Eh canale Impostazioni Aspetta Aspetta Allora 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 Aspetta 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 un attimo ragazzi torno il codice verifica aspettate sto facendo un casino allora 5 3 1 5 3 1 4 5 1 ok fatto allora aspetta eh dove devo andare allora sono su su inizio aspetta da qua non posso farvi vedere che la webcam è piccola non so se cosa vedete o meno allora dashboard devo andare su dashboard allora allora dice live lo so aspetta eh e dove devo andare canale aspetta eh canale italiano 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 allora impostazioni devo andare si ok ok impostazioni perfetto canale allora invito controllo genero link di invito aspetta copia 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 trovo arduino aspetta 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 vedere aspetta aspetta mando anche a come si chiama quell'altro eh salve l'ox copia twitch mettiamo chiocciola salve l'ox 002 incolla asspetta ha ma ti ho 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 Allora, dove eravamo rimasti? Facciamo la 3V3 standard, stavolta la 3V3 standard facciamo con l'altra macchina, eccola, vai, vediamo come va, va? Dopo questa partita devo andare un attimo in bagno e poi facciamo due competitive Ah, e inizio subito così? Però, però, però Bella, bella come traiettoria Vabbè, è iniziato così, a caso, sta partita, boh Vabbè, dai, come? Vabbè Vabbè, si prese Ah, abbiamo vinto, dai, vabbè, dai Allora, raga Vado un attimo in bagno e torno Poi se volete giocarmi Ah, se volete venire a giocare con me Vi lascio il mio ID Aspetta ID Rocket League Aspettate Ecco qua Chi vuole venire a giocare con me Chi vuole venire a giocare C'è il mio ID Arrivo subito Chi vuole venire a giocare con me Chi vuole venire a giocare con me Che vuole venire a giocare con me Chi vuole venire a giocare con me Grazie. 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 Ma forse della luce non c'è bisogno. Vediamo. No no va benissimo anche la luce di fuori adesso dai. e mannaggia devo dire al bot di mettermi anche l'altro link devo mettere quello di boh vabbè allora che facciamo facciamo qualche partita competitiva poi si vedrà ok ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spare? Grazie a tutti. 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 Oh no. Grazie a tutti. 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 Oh no. Grazie a tutti. Luigi? Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. E niente. Grazie a tutti. 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 rosso, rosso, perfetto le gomme eh, queste vanno bene secondo me lo facciamo con le gomme da dieci, dai ci sta prima c'è una drop shot perché non faccio queste partitine così di risa devo continuarle perché poi finisce il pass e non mi danno niente in gratis devo cercare di salire di livello ah, c'è Vincenzo vedo Vincenzo ragazzi faccio un attimo il party e arrivo eh ah, ok party di Vincenzo perfetto no, vabbè no, vabbè non, vabbè non, vabbè non, vabbè Grazie a tutti. 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 GTA 5. No, ritorno su GTA, ma sto facendo. Aspettate, raga. E io invece sabato devo fare il FIA GT. Sì. Sì. Ah, per cazzo. No, The Crew 2 non mi piace. No, 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 no. No, no. L'azionamento è bellissimo. Mi piace. Mi piace. Mi piace questo ultimo azionamento. È prima di fare un po' schifo. E diciamo che, guarda che Rocket League è migliorato di sicuro tantissimo. No, ma che bene? No, 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 no. Diciamo che Rocket League come grafica è il top. perché il problema è che fortnite sta peggiorando perché fortnite sta proprio io mi ricordo all'inizio all'inizio fortnite era il top si infatti sì infatti fare le emissioni è qualcosa di domani è venerdì ieri dovevo fare la diretta vabbè dai oggi ve l'anticipo faccio finta che oggi è martedì però dai oggi la sto portando un po dai questa diretta di rocket per oggi voglio portarvi rocket domani vi voglio portare project cars 2 e poi come sempre sabato gt sport e così ho fatto un po di live per questo mese di maggio domani ho fatto i live su tecnici e tua e te le nuovo forzionamento fare cane si in effetti e poi sapato alle 20 sui poteri tempi e alex non bestemmiare di nuovo eh qua ce n'è una che mi bestemmia di continuo mamma mia che fa sempre andiamo la via un po la via un po la via un po la via un po Dai, vediamo Eh sì, motocross è bello Però è tosto Vabbè, guidare sul fango è ok Uè, mago back Grande Grande mago E qualcuno dei fan di Bobby c'è, dai, dai Manca solo il Tudo E siamo a posto Grande il Tudo Vai che stasera ci divertiamo Con Bobby E sto guidando Una vettura tipo F1 Si chiama Animus GP Che è un'auto che su PS4 non c'è Per PC c'è questa Purtroppo tutte le forse è subito in PS4 Anche tutti i giochi è subito in PS4 Si, diciamo che è Sì, diciamo che è subito in PS4 Sì, diciamo che è subito in PS4 Aspetta eh Vabbè Dove sono? Ah, eccomi Ciao Benvenuto Dunque vi ricordo che sono ancora in live Su Twitch E sarò in live Anche domani Io domani Su Project Ars 2 E poi c'ho anche Trains in Watt pure Devo ancora portare Eh, quello sto pensando di portarlo Boh, vediamo No, sto perdendo 0 a 2 No, però Trains in Watt Guarda Adesso È molto Migliorato No No E poi dopo Il dopo Mello Che Io Non Ho Tutti un tuo Coppello Eh, vabbè Ho perso Dai, vabbè Dai È stata una bella partita Comunque Lo stesso Questa Io Sto Lo stesso Alla Molto Prosto Secondo Il primo E' non salissimo Il primo Allora Allora Vediamo che sono Eh, sono 6 e mezza Io dovrei In effetti Staccare La live Eh, che Devo fare Tantissime cose Devo Sistemare I fogli Aspettate un attimo Minuto Allora Tantissime cose 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 No, no, ancora ci sono, per un po' ci sono Allora, questa ho fatto una Voglio fare una rissa E da un bel po' non faccio le partite rissa Wewe, Alex Beh, questo GT Sport ti è arrivato o no? Ah, innaggia Eh, tutto bene, dai, tutto a posto, Alex Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì questo gioco è bello eh questo è tutto in pelle questo è tutto snow runner si mi pare si questo è tutto con la ricca si se nick adesso sta facendo snora anzi anche se lui mi ha detto che finisce alle 6 e mezza abbastanza bello è abbastanza bello è un po' difficile spè le nuotte non subito nuotte è fuori strada prima le nuotte ti strada è bello questo gioco è un po' difficile è un po' difficile poi mettere con me chi è fuori strada sempre ti pite come spè spè è un po' difficile si tira io questo gioco è bello non comprare io io aspettare ct6 e poi ct6 io subito comprare ecco si questo te lo devi comprare io compro aspettare ct6 così subito comprare io sono il 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 diamo ci facciamo gol vai 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 si ma poi ct6 e io e me domanda è completamente st6 guarda dai no comunque fare direte qui guarda ah abbiamo vinto questo è un po' calmo no youtube anche io un po' ticattissi su youtube sono un po' ticattissi anche io infatti su youtube anche io ho problemi quindi infatti mi sono detto lascio vabbè youtube lo continuo ancora per caricare i video ok però youtube è bene le persone sono un po' fastidiosi si poi il problema vabbè anzi vabbè a parte di youtube il youtube mi piace perchè posso caricare le copertine e il problema è per donne si ma il problema sono la gente ecco che mi offende per esempio e per parlare delle cose brutte diciamo che quella che mi scrive cose brutte quelle che le lascio stare ma quelle che mi scrivono cose belle ok le accetto e io infatti io pannane pannane si infatti guarda eh come va tutto posto dai alex tutto posto posto dai tutto bian tutto bian tutto bian allora allora ok allora ok 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 e vabbè dai raga io che vi dico vabbè dai per il momento io la diretta la fermo la fermo anche qui grazie per avermi seguito come sempre mi raccomando seguitemi sui social ringrazio tutti voi in chat e ringrazio in particolare i miei moderatori a voi che mi avete seguito e vi 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 ricordo che in descrizione vi lascio tutti i miei social ovviamente su youtube e niente un saluto da anche e ringrazio anche robertino garra per il per la compagnia qui qui in chat seguitemi sui social instagram telegram youtube tutti i miei social io vi aspetto domani domani pomeriggio con project cast 2 e niente dai raga ci si becca presto ciao alla prossima ciao